La scheda video che ho davanti a me nel 2020 al lancio costava 1.500€, nel 2022 3.000€ e adesso nel mercato dell'usato 700€. Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo. Oggi siamo qui con questa che, come avrete visto da titolo e copertina, è la scheda video più potente del 2020. Sto parlando ovviamente dell'NVIDIA RTX 30 e 90. La scheda video è inizialmente proposta per la fascia prosumer, cioè per chi non voleva solo giocare, definita da NVIDIA come la BFGPU, per fare una citazione all'arma più potente che si può trovare su Doom. Però effettivamente, ecco, la maggior parte della gente, oltre ad averla utilizzata per minare, visto che poi andremo a parlare anche meglio delle memorie e in generale delle specifiche di questa scheda, era comunque, teoricamente anche adesso, un'ottima scheda per fare mining. Comunque, al di là di quello e al di là della produttività, è anche un'ottima scheda per giocare. Diciamo, non si distacca poi molto, e questo lo scopriremo meglio durante i benchmark, rispetto a una 3080. Però, ecco, insomma, il fatto di possedere questi benedetti 24GB di memoria VRAM, l'hanno resa sicuramente una scheda, oltre che dal prezzo abbastanza inarrivabile, perché, ripeto, MSRP 1500€ rispetto ai teorici 700 della 3080, e per chi aveva l'esigenza di tutta questa memoria, era sicuramente un'ottima alternativa rispetto alla fascia quadro, insomma, del di scheda, ecco, proposte per il segmento professionale. Ma prima di continuare col video, vi invito, come sempre, a iscrivervi qua sotto al canale, attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche, se ovviamente non lo avete già fatto, così da rimanere sempre aggiornati sui prossimi video che usciranno sempre qui sul canale, sempre riguardo hardware e videogiochi. E riguardo a questo, proprio, ci sono i due canali telegram di offerte, a cui vi invito a iscrivervi, perché, appunto, passano le migliori offerte, per quanto riguarda schede video, CPU, RAM, memorie in generale, schede madri, e, ovviamente, anche videogiochi, PlayStation 5 e Nintendo Switch. Quindi, mi raccomando, siete interessati, trovate i due canali. Uno è per quanto riguarda le offerte di Amazon, ovviamente, nuove, e l'altro per quanto riguarda le offerte di Amazon e venditori di terze parti, sempre, però, su Amazon Marketplace, e, ovviamente, per quanto riguarda, però, l'usato. Quindi, mi raccomando, iscrivetevi, perché passano sempre delle ottime offerte, e, quindi, se lo fate, fate un favore a voi e al vostro portafoglio. E prima di riprendere a parlarvi della 3090, vi invito anche a seguirmi sulla mia pagina Instagram, che trovate sempre linkata qui sotto in descrizione. E detto questo, direi che possiamo partire con le specifiche tecniche di questa 3090. Uscita verso metà settembre del 2020, la RTX 3090 si presenta come la scheda video più potente della line-up Ampere e, al suo interno, monta il chip GA102, con, praticamente, quasi tutti i CUDA Core sbloccati. Infatti, parliamo di una scheda da 10496 CUDA Core, diciamo, seconda soltanto, forse, alla 3090 Ti, che dovrebbe averne 10700, ma scheda che poi è uscita, praticamente, due anni dopo a questa. Quindi, insomma, diciamo, ecco, quindi vediamo con la 3090 il chip, che il GA102 è presente anche sulla 3080, però, in questo caso, sbloccato, praticamente, al massimo. I Core presenti in questa scheda operano una frequenza in boost di circa 1700 MHz per i modelli custom di 3090, diciamo, più basici. In questo caso, qui, vedete, abbiamo una EVGA For The Win 3 Ultra che arriva in boost sulla carta a 1800 MHz. In realtà, vi dico già, insomma, è anche qualcosina in più se la lasciamo andare così a stock e, ovviamente, poi si può anche overclockare. E per continuare con le caratteristiche tecniche abbiamo, ovviamente, il comparto VRAM che è probabilmente una delle cose più interessanti della 3090 perché ci troviamo di fronte a una scheda con un bandwidth complessivo di 936 GB al secondo che è davvero, davvero tanto rispetto anche alle schede, insomma, top di gamma che troviamo oggi, insomma, come la 4090 che è di 1 Tera, virgola qualcosa, insomma, quindi non tantissimo di più rispetto a questa visto che, appunto, questa 3090 monta al suo interno memorie GDR6X con un bass di 384 bit e quindi questo, infatti, come vi ho già detto dalla intro, insomma, la rendeva una scheda sicuramente molto interessante per il mining però anche molto interessante per tutti gli altri applicativi che vanno a sfruttare un bandwidth della memoria così ampio. E per concludere con le specifiche, parlandovi del tallone d'Achille di questa scheda è un po' anche, diciamo, di quasi tutte le Nvidia Ampere il TDP, cioè, appunto, il consumo effettivo di questa scheda che sulla carta è di 350 Watt ma in questo caso, ecco, probabilmente anche avendo un modello, diciamo, un pochino più spinto a stock abbiamo consumi che si aggirano a pieno carico, ovviamente, intorno ai 410 Watt che sono veramente tantini per una scheda video infatti in questo caso, per questa custom, abbiamo bisogno di 3 connettori ausiliari 8 pin di alimentazione e per questo dobbiamo avere anche un ottimo alimentatore che riesca a gestire questa scheda video e ovviamente, di conseguenza, anche un'ottima dissipazione lato Core e lato VRAM perché, appunto, questa scheda con le GDR6X, collocate, poi, effettivamente, anche abbastanza alte così, diciamo, rischia quasi di prendere fuoco se non dissipata adeguatamente cosa che questo modello di custom di EVGA riesce a gestire senza nessunissimo problema perché, infatti, davanti ci troviamo di fronte una scheda con un dissipatore che occupa, praticamente, 3 slot all'interno del case 3 ventole e anche un backplate che offre, diciamo, una buona dissipazione alle VRAM poste, diciamo, dall'altra parte del PCB dietro perché, ovviamente, la 3090 per mettere tutti i 24GB di VRAM diciamo, ha dovuto optare per una posizione delle VRAM non solo davanti, insomma, vicino al DAI ma anche sotto e quindi, insomma, anche quelle dovevano essere dissipate in qualche modo e, diciamo, il backplate, che comunque è bello spesso credo, almeno 1-2 mm diciamo, poi si connette, ovviamente, a dei thermal pad posti, ovviamente, tra VRAM e backplate e quindi, anche dal punto di vista delle VRAM non abbiamo nessunissimo timore a utilizzare questa scheda cosa di cui ci dobbiamo preoccupare magari per qualche modello di custom un pochino più budget che, diciamo, lascia un po' troppo libere le memorie il lato temperature cioè, che, appunto, le lasciano un po' bruciare, ecco però, ripeto, in questo caso non abbiamo avuto problemi e avremo ancora meno problemi se andassimo a fare undervolt cosa che vedremo veramente fra pochissimo prima, però, di passare ai profili di undervolt ci tenevo a fare due parole per quanto riguarda la piattaforma di test che è, sostanzialmente, il mio computer prima, però, dell'upgrade che vi ho già detto, insomma, spoilerato in qualche video fa anzi, in realtà, diciamo, al momento in cui uscirà questo video probabilmente avrò già realizzato ma, in questo momento, mentre sto registrando ancora, insomma, devo ultimare e quindi, diciamo, i test li ho fatti col mio vecchio PC cioè, con Ryzen 7 3700X 8 core 16 thread overclockata 4,25 GHz 16 GB di RAM 3200 MHz CL16, scheda madre ASUS X370 Prime Pro e, insomma, SSD da 2TB della Silicon Power il tutto, ovviamente, accompagnato dal mitico EVGA 850G2 come alimentatore i test, quindi, che andremo a vedere sono, più che altro, in scenari dove la GPU è praticamente tirata al massimo quindi non ho fatto test in full HD proprio per questo per evitare che la CPU facesse da bottleneck anzi, in realtà, li abbiamo visti i test in full HD già con questa scheda con video su CPU che, ecco, sono usciti insomma, questi benchmark diverse settimane fa e magari qualcuno lo vedrete anche prossimamente quindi, sì, sono andato a testare ovviamente tutti i giochi da una base di 1440p a salire in 4K e poi, ovviamente, nei casi col pad tracing anche lì, insomma, magari in 1440p col DLSS quindi, passando ai parametri di Android Volt che ho utilizzato per questa scheda video e che anche voi potreste utilizzare sulla vostra alla fine non sono dei settaggi particolarmente spinti ecco, bene o male quasi tutte le 3090 dovrebbero riuscire a farvi arrivare insomma a questi parametri sono andato vi dico subito a portarvi in questo video diciamo, i parametri che ho trovato secondo me più interessanti che sono, in realtà quelli più conservativi nel senso di conservativi in termini di consumi cioè quelli che vi fanno consumare meno in sostanza perché questa scheda video undervoltata va a consumare soltanto circa 240 Watt 230 anche che è un'ottima diminuzione rispetto ai 410 Watt a stock che arriva a consumare normalmente certo è che però con questi parametri che vi dico subito sono di 1600 MHz per quanto riguarda il core clock quindi insomma diciamo la diminuzione comunque rispetto alle frequenze di base in boost cioè frequenze di boost di base di una scheda simile in questo caso appunto vi ho detto questa arriva anche a 1800 MHz a stock quindi ripeto frequenza in undervolt un pochino più bassa ma con il voltaggio diciamo a pieno carico veramente molto ma molto più basso rispetto allo stock perché il voltaggio lo abbiamo abbassato a 775 MV che rispetto allo stock è tipo diciamo 250 MV in meno una roba del genere perché dovrebbe essere il voltaggio base intorno a un volt e qualcosina quindi davvero è tantissimo e infatti per questo questa scheda riesce a consumare non dico 200 W in meno però ecco 180 W in meno sì e non sono pochi e per questo appunto poi ci ritroviamo una scheda che è molto molto più fresca anche le memorie girano molto più tranquillamente e quindi insomma questo dissipatore come in realtà anche poi molti altri diventano insomma molto più utilizzabili molto più freschi perché questa scheda poi ecco riesce a essere gestita anche magari da dissipatori che non sono proprio il massimo detto questo direi che ho parlato anche abbastanza di questa scheda e ora lascerei parlare i benchmark e come primo benchmark abbiamo Cinebench 2024 con il GPU score qui ho testato la 3090 a stock in undervolt e confrontando poi con i risultati della 4070 vediamo che la 4070 fa un punteggio un po' inferiore rispetto a quelli della 3090 anche in undervolt ma mentre invece su Blender Open Data 3.4.0 la 4070 è più veloce più potente della 3090 undervoltata però comunque sotto al punteggio stock della 3090 su Blender invece BMW Demo abbiamo un tempo a stock di 7,05 secondi che è superiore rispetto a quello della 4070 stock che ci mette 6,96 secondi più o meno stessa cosa comunque sono in pari anche su Blender Classroom Demo dove abbiamo un tempo a stock di 13,42 secondi e mentre la 4070 13,44 l'undervolt è un pochino più lento ma non di tantissimo Octane Bench RTX abbiamo un punteggio a stock di 671 punti che in undervolt scende a 644 e la 4070 è un pochino superiore alla 3090 undervoltata perché arriva a 650 ai rotti V-Ray Cuda punteggio a stock 1987 punti undervolt scende abbastanza 1757 e anche qui la 4070 a stock è più veloce della 3090 undervoltata V-Ray RTX punteggio stock 2632 punti e anche qui stessa cosa come per la versione Cuda la 4070 è in vantaggio con 2454 punti rispetto alla 3090 undervoltata Premier Pro più Jet System Benchmark qui effettivamente la 3090 diciamo mantiene la sua classe perché con 79 punti diciamo è abbastanza in vantaggio rispetto al insomma al punteggio base della 4070 qui invece ho testato Specview Perf 2020 e possiamo confrontare insomma i risultati sui vari applicativi delle varie schede insomma vediamo che la 4070 su diverse applicazioni è superiore rispetto alla 3090 sia a stock che in undervolt mentre in altri ecco la 3090 rimane comunque la scheda più potente Stable Diffusion Automatic 1111 Xformer attivo stock 16 iterazioni al secondo undervolt 15 iterazioni al secondo circa e 4070 di nuovo 16 iterazioni al secondo qui ovviamente però abbiamo che la VRAM insomma ci fa molto comodo potendo caricare insomma modelli molto molto grandi comunque passando ai giochi abbiamo Control testato con settaggi di Digital Foundry 1440p punteggio insomma frame rate a stock di 158 fps undervolt 144 e 4070 134 quindi comunque niente male anche per la piccola 4070 e passando ai risultati in 4K dove però non abbiamo testato la 4070 abbiamo a stock 94 fps undervolt 83 effettivamente qui in undervolt scende abbastanza mentre con ray tracing e 4K DLSS quality stock 78 fps undervolt 74 quindi non tantissima differenza e anche la 4070 si difende bene con i suoi 70,4 fps di media alla wake 2 settaggi di Digital Foundry 1440p DLSS bilanciato stock 111 fps undervolt 98 e 4070 stock 93 fps se passiamo i setaggi in 4K sempre con DLSS bilanciato ma senza pad tracing abbiamo 76 fps contro i 69 dell'undervolt vi ricordo qui ovviamente la scheda undervoltata va a consumare molto molto meno col pad tracing però senza ovviamente il frame generator perché la 3090 non ce l'ha stock 47 fps e vediamo che la 4070 proprio per il fatto che ha dei core nuovi di nuova generazione riesce a equiparare il punteggio insomma in termini di frame rate della 3090 stock death stranding setaggi maxati 4K stock 113 fps undervolt 104 fps e 4070 98 fps quindi anche qui insomma si vede che la 4070 come giusto che sia insomma è un pochino inferiore però non chissà quanto ecco soprattutto se consideriamo poi i consumi che sono effettivamente molto molto più bassi rispetto a quelli della 3090 anche undervoltata fortnite setaggi medi in 4K più di LSS quality abbiamo un punteggio in termini di frame rate a stock di 182 fps e in undervolt di 174,7 fps quindi anche qui comunque mantenendo un'ottima grafica abbiamo comunque la possibilità di giocare con un refresh rate davvero molto molto alto e invece se lo testiamo a setaggi maxati anche con ray tracing tutte le feature dell'area engine 5 attive però con il DLSS sempre quality in 4K facciamo a stock 57 fps e in undervolt 51,5 fps qui non ho testato la 4070 perché insomma i risultati erano ancora della vecchia season quindi non ho avuto modo ecco di ritestarla su questa nuova su questa nuova stagione god of war 1440p ultra stock 121 fps undervolt 107 fps e 4070 103 fps anche qui alla fine insomma tutte le schede portano insomma un risultato sicuramente ottimo considerando i settaggi veramente pesanti se passiamo al 4K col DLSS quality sempre con settaggi ultra la 3090 rimane comunque in vantaggio rispetto anche alla 4070 cyberpunk 2077 4K settaggi di ardor unboxed 66 fps per la 3090 undervolt 62 e 4070 perde un pochino perché fa 51,8 fps però se attiviamo il pad tracing su questo gioco che effettivamente diciamo si trasforma come gioco vediamo che il 1440p DLSS balanced hardware unboxed settings e pad tracing la 4070 comunque fa un framerate molto 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 vicino rispetto a quello della 3090 senza considerare il frame generator che ovviamente si può attivare e insomma conviene sicuramente farlo quindi davvero cosa molto interessante Battlefield 5 da RTX 11 Ultra e 4K abbiamo a stock 131 fps undervolt 120 e la 4070 a stock effettivamente si vede insomma che qui perde un pochino rispetto alla 3090 detto questo direi che possiamo passare alla discussione finale di questo video eccoci qui ragazzi dopo aver visto i benchmark che dire questa è la scheda che come saprete adesso è la mia scheda principale nel mio pc e nel senso devo essere comunque critico non è che posso dire ha un'ottima scheda basta fine del video così no ovviamente e diciamo sono rimasto un pochino male effettivamente da possessore di 3090 vedere schede come la 4070 o appunto vedere magari anche la stessa 4090 ma quello ci sta che è una scheda video insomma di generazione successiva insomma con un livello di prestazioni completamente diverso andare parlo soprattutto per la 4070 andare meglio nei giochi col pad tracing che supportano il frame generator ovviamente rispetto appunto a questa 3090 perché abbiamo visto appunto nei giochi una scheda del genere con una potenza simile comunque essere diciamo sì in rasterizzazione nei titoli diciamo che non fanno uso di ray tracing o comunque di frame generator questa scheda comunque va di più rispetto a una 4070 ovviamente va di più rispetto alla stessa 3080 e fin qua tutto ok però quando si parla poi di nuove feature appunto supporto al pad tracing con core che più sono nuovi meglio è e supporto ovviamente a questo benedetto frame generator vediamo ecco qui che la 3090 comunque prende diciamo botte anche da questo tipo di schede ma anzi forse la cosa che fa incavolare di più non sono tanto le prestazioni nei giochi quanto invece le prestazioni in produttività perché sì nel senso non infrantendetemi cioè questa come scheda è sicuramente una bestia per il livello di prestazioni che offre però anche qui se la andiamo a confrontare con schede come la 4070 vediamo che appunto la 4070 quindi nuova generazione che però vi ricordo consumare abbiamo visto dal video che se vi siete persi vi lascio linkato qua in alto veramente consuma una frazione di questa di questa 3090 perché in undervolt arriva a consumare 130 watt e poi anzi quello era un undervolt comunque diciamo conservativo ma dal lato delle prestazioni quindi che non andavamo a perdere quasi nulla diciamo 130 watt contro anche i 250 di questa per avere proprio prestazioni anche più elevate per la 4070 devo dire che insomma farebbero girare un po' le scatole anche in questo caso l'unico aspetto positivo che ha questa scheda e che immagino avrete intuito è ovviamente quello della VRAM perché 24 giga di VRAM sono per gli standard attuali per il gaming molto più che sufficienti perché anche i giochi che ne vanno a consumare di più e a risoluzione altissima arrivano a consumare 13-14 giga dire tanto questa ne ha 24 quindi veramente sono molto più che sufficienti quindi ecco questa 3090 soprattutto si è trovata a un prezzo diciamo contenuto che potrebbe essere appunto 650 euro nel migliore dei casi secondo me 600 euro per adesso ancora non la si trova facilmente a meno e può essere appunto un'ottima alternativa se quello che dovete fare appunto non è solamente il gaming appunto non è per nulla il gaming ma magari qualche ambito di produttività che per qualche motivo insomma vi va a consumare magari perché insomma i modelli su cui lavorate e quant'altro sono così pesanti sulla VRAM che vi fanno consumare 24 giga e magari anche oltre quindi ecco una scheda video del genere sicuramente preferibile rispetto a un modello che ne ha molti meno e anche oggi siamo arrivati alle conclusioni di questo video io come sempre vi lascio con due video che se non avete visto vi consiglio molto di guardare il primo è quello sulla RTX 4090 scheda video top di gamma attuale mentre il secondo video che vi consiglio riguarda la RTX 4070 che abbiamo visto appunto diverse settimane fa all'opera appunto sfidare questa 3090 detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi grazie a tutti